Ehi, pronto Giovannino! Ehi, carissimo! Come stai? Ciao, 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 ciao! Senti, stavo a pensare ad una bella rimbatriata con tutti i compagni di scuola questo weekend. Au, ce sei? Ehi, sì, sì, sì... Ma che stai a dire? No, 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 ho il Covid. No! Ho il Covid. Ma hai fatto il tambone? Positivissimo! Di niente, mi dispiace, la rimbatriata la spostamo, ma vamo la prossima settimana. Ma no, tranquillo, andate voi, non ti preoccupare, tanto avrai già avvisato tutti. Eh, ma no, tu sei il primo che chiamo. Eh, no, è che la prossima settimana mi sposo. Ma come ti sposi? Non ti sei già scusato? Ah, no, 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 no. Scusa, volevo dire, andiamo a un matrimonio, siamo impegnati, quindi anche la prossima settimana è difficile. Ci organizziamo quando torni? Guarda, facciamo così, appena finisce tutto, ti chiamo io, vai tranquillo, ci organizziamo. Vabbè, ok, c'è conto, eh. Ti chiamo io, vai tranquillo, non ti preoccupare. Ma raccomando. Assolutamente. Ciao, Giovannino, ciao, ciao. Ripigliate. Ma porra, capitata.